Marco Bognani per tutti è Magic Box ed è un fortissimo giocatore online, specialità torneo? Sì, mi piacciono soprattutto i tornei, sono specializzato in questi. E allora presentiamo proprio i nostri amici di Italia Poker Club e di Italia Poker Forum, una situazione specifica di torneo. Abbiamo Bui 200-400, tu tra le mani hai donna-donna, vi è stato un rilancio da middle position e tu sei di bottone. Dobbiamo vedere come agisci in relazione all'avversario che li trovi di fronte, se è tight, se è aggressive o se è uno sconosciuto sul quale non hai nessun tipo di informazione. Battezziamo che in questa fase di torneo tu sei comunque deep stack come il tuo avversario. Allora, se fortunatamente sono deep stack mi trovo in posizione, avrò un'immagine abbastanza aperta, avrò rilanciato già diverse mani probabilmente, quindi da bottone mi crederanno difficilmente. Sicuramente deep stack non sarà simpatico andare a rotti per più di 100 bui con una mano come donna-donna, anche se abbiamo un overpair, quindi cerchiamo di pot controllare sempre. Ovviamente se abbiamo davanti un avversario aggressivo sarà un po' più difficile pot controllare, cerchiamo di massimizzare comunque la nostra mano con tutti e tre i tipi di avversari in diverso modo e di perdere chiaramente i minimi nel momento in cui ci vediamo, abbiamo da affrontare una mano in cui siamo battuti, ecco diciamo, se la nostra donna-donna viene superata. Vediamo il rilancio che effettui, abbiamo detto bui 200-400, a fronte di un avversario tight. La mia tribet sarà circa 2,5 sul suo rilancio, quindi sui suoi ipotetici 1000 di rilancio effettueremo un 2.500. Se è aggressivo? Se è aggressivo tendo a andare veramente cortissimo, faccio 2.200 per permettergli di inventarsi di qualsiasi tipo di giocata. E se è uno sconosciuto? Se è uno sconosciuto tendo comunque a fare 2.500. Perfetto, ipotizziamo che il flop sia jack 8-3 rainbow, quindi ipoteticamente un flop che non porta particolari preoccupazioni. Tu effettui una cibet standard? Sì, cibet con tutti i tre tipi di avversari, probabilmente una cibet che potrà andare tra i 2.700 ai 3.200, non più nemmeno di questa cifra. Sempre con questa variante, se l'avversario è più o meno aggressivo? Sì, questa sarà sempre standard, ovviamente a meno che veda a te il particolare dell'avversario, però sicuramente la cibet è sempre quella. Io lo faccio senza mano, una volta che ho overpair sarà più simpatico farlo per me. Regalaci un'informazione in più, visto che hai parlato di TEL, qual è il TEL che ti fa fare una scelta di un tipo rispetto a un'altra? C'è qualche TEL interessante, mi fido abbastanza, chiaramente non al 100% di questi TEL che posso cogliere, come può essere il vedere il flop da parte dell'avversario e subito guardarsi le proprie fish oppure giocare, incominciare a giocare con le proprie fish senza preoccuparsi di quello che faccio. Quando uno guarda le proprie fish che cos'ha in genere? Di solito è abbastanza forte, gli piace il flop che è sceso. Nell'altro caso in cui giochicchia potrebbe praticamente disinteressarsi alla mano come se non gli interessasse la mia puntata, in realtà potrebbe essere in progetto, potrebbe avere anche semplicemente top pair e al 90% seguirà l'azione che farò. Allora, appunto abbiamo detto che tu effettui una c-bet, poniamo invece che l'avversario rilanci, standard 2,5 come abbiamo detto, su questo flop jack 8-3 rainbow, sul suo rilancio cosa fai? Quindi una volta che io faccio 2... Mezzo lui fa 8, sì, diciamo per 2,5 dai più o meno. Allora, quasi sempre sia quello sconosciuto che con l'avversario tight mi limiterò a collare, perché non voglio andare rotto, soprattutto con l'avversario tight, so che non si inventerà particolari giocate e quindi chiamerò per rivalutare turn, mentre se avrò l'avversario aggressivo chiaramente potrà avermi chiamato anche con una mano marginale, potrebbe essere in draw, con un gutshot o con semplicemente in questo caso jack 8-3, una bilaterale e quindi tenderò a andargli ancora sopra. Bene, a questo punto scende un 2, carta assolutamente tutt'altro che scheri, definiamola così, quindi il tuo avversario decide di pushare all in, cosa fai? Allora, io sono deep stack, non so quante fisce al mio avversario, sarebbe importante saperlo, nel caso comunque che lo possa fare un avversario tight, come abbiamo detto prima, uno dei tre casi, sinceramente potrei tranquillamente passare la mia mano senza problemi, negli altri due casi probabilmente chiamerò con questa mano. Se invece di andare all in, facesse una puntata non ancora committante? Ulteriore. Con l'avversario sconosciuto e con l'avversario tight chiamerò, a meno che non sia proprio la metà del suo stack, in quel caso potrei già foldare col tight, mi metterò il call, con l'aggressivo potrei valutare la forza di un mio push, sapendo che lui è aggressivo e potrebbe ritenere me anche aggressivo come lui, a quel punto potrebbe bastargli un jack per chiamarmi all in.